Quanto vi mancavano i video su Arma? Ciao ragazzi bentornati sul canale, io sono Blake ed oggi siamo su Arma per annunciarvi la nuova stagione della Brigata su Arma che inizia proprio l'11 settembre con il programma addestrativo degli operatori del nostro Red Squadron. Saranno tre settimane di lezioni e ripasso nozioni milsim per simulare il nostro Dev Group Unità Tier 1 della Marina degli Stati Uniti. Vi ricordo che i reclutamenti sono aperti e che potete fare domande controllando i requisiti sul sito brigatacorvinieri.it dove troverete anche il link ufficiale del nostro Discord. Dunque l'11 si parte, l'11 settembre per una stagione incredibile che vi porterò ogni lunedì in live se riesco ed altri contenuti riguardanti il nostro reparto. Che dire, non vedo l'ora di partire, intanto vi lascio ad un breve video con Gaetano ufficiale della Brigata Corvinieri nel CQB proprio per riprendere un po' i ritmi dato che mi sentivo molto, molto, molto macchinoso. Signori, io vi ringrazio e vi ricordo di seguirmi sulla mia pagina Instagram, vi lascio il link in descrizione, vi auguro una buona visione, un saluto ed un abbraccio dal vostro Blake. vi auguro entro. a a a A presto A presto A presto A presto A terra Entro a destra Qua è tutta libera Ho un computer A presto A presto A presto